Il calcio è fatto anche di numeri, 100 presenze con la maglia dell'Entella non sono poche, se a queste coniugliamo il tuo ventesimo gol, direi che è stato un pomeriggio importante anche per te oltre che per la squadra. Diciamo che era importante oggi portare a casa il risultato, portare a casa i tre punti che ci mancavano ormai da tanto tempo, quindi penso che in queste partite, anche se magari il risultato non era quello che speravamo, abbiamo comunque dimostrato di esserci, di non mollare mai. Poi comunque, ripeto, nel calcio bisogna fare i punti, bisogna vincere per conquistare qualcosa di importante. Ieri ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo portato a casa i tre punti, non c'è mai stata la partita, e da ora per un inizio il nuovo campionato. Ecco, come tutte le storie d'amore, la tua Colentella ha vissuto tanti momenti belli, qualche momento un po' più complicato, ma tu ti aspettavi di riuscire a tagliare questo traguardo perché comunque 100 presenze non sono poche? No, no, assolutamente, sono molto contento di aver fatto 100 partite con questa maglia e comunque spero di proseguire questo cammino con questa maglia e vedremo nei prossimi giorni cosa succede e vediamo poi... sicuramente io cercherò di aiutare la squadra fin quando sarò qui e poi tireremo le somme. Ecco, tu sei un veterano di questa categoria, conosci molto bene e conosci bene anche questo gruppo. Quanto ha la possibilità questa squadra di fare questa rimonta, di credere in questo obiettivo Salvezza? Ma è un gruppo che penso che in Serie B pochi gruppi si trovano così, quindi penso che abbiamo tutte le possibilità, le carte in regola per uscire al più presto da questa situazione e quindi dobbiamo soltanto lavorare come abbiamo fatto finora, diciamo che non è stato l'inizio del campionato dei migliori anzi, quindi ora stiamo cercando anche di recuperare giocatori che sono stati fuori a lungo e quindi saremo una squadra tosta da affrontare con tutti i giocatori che stanno rientrando e dobbiamo continuare dalla partita di ieri.